Oggi vi faccio vedere come preparare riso con cinque cereali è una ricetta ideale per chi sta attento per la propria salute e preparando onigiri che sarebbero le propette di riso diventerà un ottimo cestino da pranzo. Verso la fine del video vi spiegherò come prepararli e come coprirli con un fazzoletto giapponese furoshiki. Gli ingredienti sono il riso originario, l'orzo, il riso nero, il riso rosso, il miglio, la kinoa, qua non si vede ma anche un po' di sale naturale. Questa è la ricetta da quattro porzioni. Prepariamo 300 grammi di riso originario. Il riso originario è il tipo di riso molto piccolo e tondetto e in Italia viene considerato per fare la minestra e assomiglia tantissimo al riso giapponese. Potete comprarlo in un supermercato italiano ma io di solito uso il riso originario di marca giapponese che si chiama Okome-san che si vende in un negozio che ha anche i prodotti orientali dove vivo io. Compro 5 kg e lo conservo in un contenitore. Lo potete acquistare anche online facendo la ricerca. Per fare le pietanze come i sushi e i onigiri che hanno molta importanza la bontà del riso preferisco usare questo riso originario giapponese Okome-san perché è davvero buono e mi ricorda il gusto del riso che mangiavo in Giappone. Lo laviamo e eliminiamo subito l'acqua e ripetiamo per altri due o tre volte. In altri miei video che si chiamano come fare il riso bianco e riso bianco alla giapponese. Sto spiegando come lavare il riso in modo molto accurato e la loro link lascerò nella descrizione. Dopo averlo lavato lo sgoccioliamo. Nella ciotola messa sulla bilancia digitale mettiamo 30 g di orzo, 20 g di riso nero, 20 g di riso rosso, 20 g di miglio e 20 g di quinoa. rilappiamo e riso sgoccioliamo. Ora capiamo quanta acqua da mettere per cuocerli. Per il riso originario calcoliamo per 1,3 quindi 300 g di riso originario per 1,3 fa 390 g. Per l'orzo il riso nero e il riso rosso calcoliamo ognuno peso per 2. 30 g di orzo per 2 fa 60 g. 20 g di riso nero per 2 fa 40 g. invece per il miglio e la quinoa calcoliamo ognuno peso per 1,5. 20 g di miglio per 1,5 fa 30 g e 20 g di quinoa per 1,5 fa 30 g. facciamo il totale della quantità dell'acqua dei 5 cereali e fa 200 g. Per cuocerli potete scegliere fra due modi. 1, mettere insieme il riso originario e 5 cereali con il totale della quantità dell'acqua nella pentola e lasciarli riposare in frigo minimo per 2 ore prima di cuocerli. oppure mettiamo 5 cereali già lavati e sgocciolati nella ciotola insieme al totale della loro acqua e li lasciamo in frigo per tutta la notte. dopodiché riuniamo il riso originario già lavato e sgocciolato con la sua quantità di acqua calcolata. Per questo video userò una pentola d'alluminio che ha un diametro 18 cm alta 9,5 cm. Fra il materiale della pentola in comune quello che viene bene è alluminio. Invece sconsiglio l'acciaio perché spesso si attacca il riso sul fondo della pentola una volta cucinato. Invece vengono bene anche con la pentola di terracotta o con la pentola di ghisa smaltata. Tornando al discorso di prima, in questo video vi faccio vedere la ricetta con i 5 cereali messi in ammollo la sera prima. Nella pentola mettiamo il riso originario lavato e sgocciolato e mettiamo giusta quantità dell'acqua per 300 g di riso che abbiamo calcolato. Quindi sono 390 grammi e mettiamo 5 cereali con l'acqua che abbiamo calcolato. Soprattutto il riso nero e il riso rosso che sono integrali chiedono la cottura molto più lunga del riso originario. Per questo che lasciamo in ammollo la sera prima. Mettiamo 3 pizzichi di sale naturale. Icchi Ni San Una volta mescolati bene tutti insieme, appiattiamo con la mano la superficie dei cereali. Chiudiamo la pentola con il coperchio e lasciamo a riposare per mezz'ora soprattutto per il riso originario. È passata mezz'ora e posizioniamo la pentola sul fuoco della giusta misura per la grandezza della pentola. Mettiamo il peso grosso sul coperchio. Nel mio caso un mortaio di marmo. Accendiamo il fuoco al medio alto. Assicuriamo che la pentola sia posizionata al centro del fuoco. E facciamo bollire l'acqua. Nel mio caso ci sono voluti 4 minuti e mezzo. Quando arriva a ebollizione, abbassiamo il fuoco al minimo e cuociamo fino al completo assorbimento dell'acqua. Nel mio caso ci sono voluti 9 minuti. Comunque state attenti per il suono dell'interno pentola e per il profumo del riso cotto. E per capire se sono cotti li assaggiate e se sono duri aggiungete un po' d'acqua e continuate a cuocerli altro un minuto o due minuti. Invece se sono cotti giusti spegniamo il fuoco e li mescoliamo sotto e sopra e richiudiamo il coperchio e lasciamo riposare per 15 minuti. Sono passati 15 minuti mescoliamo per ultima volta. Ecco il nostro riso con 5 cereali è pronto. Lo mettete nella ciotola per il riso e lo mangerete insieme con altre pietanze tipo la zuppa di miso, la frittata giapponese tamagoyaki oppure un piatto di carne o di pesce con le verdure. In questo periodo l'ho cucinato spesso per fare gli onigiri e poi lo portavo al lavoro per il pranzo. Gli onigiri sono come i panini per voi italiani e vi faccio vedere come li facevo. Di solito gli onigiri sono più conosciuti con il riso bianco farcito interno ma avendo il riso con i 5 cereali un sapore aromatico ed è anche molto nutriente e quasi basta aggiungere il sale naturale. Ma per farlo ancora più buono ho aggiunto vari tipi di furikake che sono insaporitori giapponesi e sono insaporitori soprattutto per il riso cotto. E quelli che mi piacciono di più sono furikake yukari che sono le foglie di perilla e il sale e shio kombu che sono le alghe kombu salate. Entrambi si possono trovare online facendo la ricerca. E come insaporitori sono ottimi anche gomma shio che sono i semi di sesamo tostati e macinati con il sale. Ci possono preparare anche a casa e attacco il link nella descrizione sulla videoricetta. Un altro insaporitori che vi consiglio è la purea di umeboshi che sono le prugne salate essiccate e la potete trovare in un negozio biologico. Mettiamo un po' di questi insaporitori furikake nella ciotola dove abbiamo messo il riso con 5 cereali. Non lascio nella descrizione le dosi per fare gli onigiri ma con il riso con i 5 cereali cucinato nel questo video vengono circa 8 pezzi di onigiri. E una volta messi vari tipi di insaporitori lo mescolate bene e lo assaggiate così decidete la sapidità che preferite. Metto anche un po' di sesamo bianco tostato non salato perché la sapidità è arrivata al buon punto. Mescoliamo bene tutto insieme. Guardando la quantità vengono 4 onigiri quindi lo divido in 4. Prepariamo una ciotola con l'acqua e le nostre mani devono essere molto pulite e bagniamo le mani con poca acqua e mettiamo un quarto di riso con 5 cereali sul palmo della mano. E con un'altra mano piegata come potete vedere li formiamo a triangolo. Per farli unire diamo la pressione con le mani ma non deve essere troppo. L'ideale sarebbe che saranno attaccati tra di loro per diventare unica forma ma fra i cereali e i chicchi di riso rimangono spazi minuscoli così quando li mangiamo si diffano in bocca. In questo modo prepariamo anche altri tre onigiri. Useremo un foglio intero di alghenori più un terzo di foglio. Quindi tiriamo fuori due fogli e li tostiamo sia a parte dritta che rovescia sul fuoco molto piccolo. E sentirete che i fogli di alghenori sono più croccanti e saltano fuori buon profumo del mare. Teniamo in basso il lato più lungo e lo tagliamo in tre parti uguali e usiamo quattro pezzi. Quelli che non usiamo mettiamo nel sacchetto e sacchetto di alghenori e spesso non abbiamo la possibilità di chiuderlo bene. Quindi vi consiglio di metterlo in un altro sacchetto più grande possibilmente con lo zip per non fare entrare l'aria. Abborgiamo gli onigiri con le alghenori. Se mangiate subito gli onigiri sono ancora caldi e la alghenori è croccante. Ma se anche li mangio al pranzo dove non ho la possibilità di scaldarli comunque sono sempre buonissimi. Anzi non essendo caldi si sente più sapore di questi onigiri che sono davvero speciali. Per poter portare via come un cestino copriamo ciascuno onigiri con la pellicola. In una giornata che non è troppo calda portavo anche un termos nel quale posso mettere la zuppa di miso. Dopo sei ore la zuppa era ancora bella calda. Ho già pubblicato diverse video ricette della zuppa di miso e attacco il link nella descrizione. Sulla immagine potete vedere la zuppa di miso con le tante verdure, le melanzane, le cipolle, i cipollotti, le patate e le carote. Andiamo a coprirli con il fazzoletto quadrato che si chiama furosicchi. Esistono i furosicchi molto più grandi che si usa per coprire le cose più grandi e voluminosi. Ma per il cestino da pranzo è in comune quelli che ha 50 cm al lato. Dico la misura per chi vuole farlo con il tessuto che troverete in Italia. Per coprire il termos lo metto al centro furosicchi con un cucchiaio di legno e un fazzoletto da carta. E prendiamo due punti diagonali e facciamo un nodo. E anche altri due punti diagonali facciamo stessa cosa. Invece gli onigiri li mettiamo al centro e li copriamo piegando il tessuto da due punti diagonali e con due punti rimasti creiamo un nodo. Sull'immagine avete visto quattro onigiri ma per una donna sono sufficienti due o tre onigiri. Quando preparo il riso con i cinque cereali ne faccio anche il doppio della quantità della videoricetta di oggi. E un po' lo mangio il giorno stesso e anche il giorno dopo ma la maggior parte lo congelo dividendolo con la pellicola. Così quando ho bisogno lo tiro fuori dal freezer la sera prima e lo scaldo col microonde. E se volete fare anche voi come me vi consiglio di etichettare con la data e cercate di consumarli entro due mesi. Questo video termina qui. Se vi è piaciuto potete lasciare un like o un commento per farmi sapere cosa ne pensate. E se non volete perdervi i prossimi video potete iscrivervi al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti qui sotto. Ci vediamo presto con la prossima videoricetta. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!